ciao a tutti ragazzi sono petro igoro il tanke questo è un video di ritorno nel senso non faccio video su youtube da circa 23 anni e ho pensato che sarebbe l'ora di tornare perché mi divertivo davvero tantissimo a farli e sinceramente mi manca mi manca adesso sono all'università perciò avrò un pochino più di tempo da un lato ma anche meno tempo dall'altro perché vabbè è tutto un casino però mi ci impegnerò magari riuscirò a fare qualche video non aspettatevelo nell'immediato però magari ce la faccio niente volevo volevo solo dirvi che cercherò di fare video di tutti i tipi partendo dai videogiochi che adesso ho preso la playstation 4 al tempo io registravo con la play 3 quindi registravo col telefonino attaccato a una cyclette che registrava lo schermo davanti a me non avevo neanche quella diavoleria che registrava lo schermo perché non me la sono mai comprata e allora faceva schifo adesso con il fatto che la play 4 posso registrare direttamente dallo schermo quindi i video verranno più di qualità volevo scusarmi per questa orribile maglietta perché è bellissimo e me l'ha regalata la mia ragazza è stupenda e niente ah ho messo l'apparecchio all'età di 19 anni ho messo l'apparecchio quindi wow che schifo però vabbè tutte le varie novità mi sono fatto crescere la barba che se vi ricordate in qualche video fa non c'era perciò beh le novità sono queste ci vediamo prossimamente sul mio canale e grazie per la visione anzitutto una buona continuazione a tutti arrivederci presto